Ciao, sono Carolina, abito a Brignano e frequento il liceo Galileo Galilei di Caravaggio, indirizzo linguistico, studio inglese, francese e tedesco. Ci sono un sacco di ragazzi di Brignano che ora vanno in terza, quarta e quinta e che mi hanno dato una buona parola su questa scuola e mi hanno convinta a venire qua perché comunque è una scuola molto bella e a cui sono affezionati e questo mi ha spinto in questa scuola. Sono molto soddisfatta dell'accoglienza inizio anno perché tutti sono venuti ad accoglierci, sono stati molto gentili e carini e non sono stati ne troppo addosso, non ci hanno prestato troppo e è stato molto bello, comunque è stata una prima impressione molto bella di questa scuola. Sono molto soddisfatta della mia scelta e non credo che cambierò idea e sono sicura, ho fatto la scelta e sono sicura di andare avanti con questa scuola. Mi sono integrata molto con la classe e abbiamo fatto subito amicizia già i primi giorni e siamo quasi inseparabili già adesso e quindi è molto, è ottimo il nostro rapporto come classe. Io per la prima volta nella mia vita sono felice di andare a scuola perché comunque mi piace molto in questa scuola, mi piace molto l'organizzazione, il fatto che la scuola punti al rendimento buono degli studenti con tutti questi corsi di recupero in caso di insufficienze e la scuola viene molto incontro agli studenti, quindi mi piace molto questo.